Ben trovati, benvenuti a una nuova puntata di Dentro la Notizia, il format di Telesirio L'Aquila che si occupa di approfondire alcune tematiche che possono essere interessanti per la nostra città. Oggi siamo con il professor Francesco Barone che vogliamo ringraziare innanzitutto per la sua disponibilità. Siamo ospitati nell'Atene Aquilano perché il professor Barone è un docente del Dipartimento di Scienze Umane. Per oggi non vogliamo parlare di Ateneo, vogliamo parlare di un'altra attività che coinvolge appieno il professor Barone che è quella delle missioni umanitarie, in particolar modo del suo impegno che ormai è ventennale, più di vent'anni in Africa con Help Senza Confini, l'associazione che presiede. Professor Barone io partirei da un incontro, da un incontro molto bello che lei ha avuto con un premio Nobel per la pace tra le altre cose, ci racconti di questo incontro anche perché da questo incontro è venuto fuori un documento datato 4 gennaio che lei ha riportato in Italia e che descrive molto sinteticamente una situazione che però spesso è anche taciuta dai media, quella del Congo, della situazione che si vive là, delle difficoltà di donne e bambini. Il premio Nobel ha fondato un ospedale nel suo paese, si occupa di tante donne che vengono stuprate, lei stesso ci ha raccontato perché noi abbiamo avuto modo di farci una chiacchierata anche fuori dalle telecamere della situazione. Che cosa c'è professore in questo documento e come ha incontrato lei il premio Nobel? Sì, io ho incontrato Denis Muè che è il premio Nobel per la pace 2018 all'ospedale Panzi che è un ospedale di Bukavu, questa città della Repubblica Democratica del Congo. È stata una conversazione sicuramente molto cordiale, siamo stati chiaramente, c'è stata una reciproca simpatia e una reciproca stima. Denis Muè che mi ha parlato della condizione in cui vive la popolazione della Repubblica Democratica del Congo e al termine di questa conversazione mi ha lasciato questo documento pregandomi di diffonderlo in Italia e in Europa affinché si conoscesse la realtà del Congo. Come è noto Denis Muè che è un ginecologo, nel corso degli ultimi vent'anni ha operato, ha curato migliaia di donne, circa 50.000 donne che sono state vittime di violenze e disturbi nel paese africano. Lei ci raccontava anche della situazione che vivono i bambini e ci diceva una cosa che ha fatto molto effetto perché noi fortunatamente non viviamo diciamo queste situazioni e siamo fortunati di bambini che rimangono letteralmente imprigionati negli ospedali perché dopo le prime cure che ricevono poi le famiglie che sono poverissime non possono pagare questa assistenza sanitaria diciamo così e per cui questi bambini rischiano di rimanere negli ospedali tantissimi. Voi con la vostra associazione vi occupate anche di aiutarli ad uscire da quella che li cura sì ma che poi può divenire una prigione per loro. Tra le tante attività che noi svolgiamo in Africa e in specifico nella Repubblica Democratica del Congo ci occupiamo di questo dramma dei bambini ospedalizzati. Qui si tratta di bambini che appunto vengono ricoverati in alcuni ospedali della città, io mi riferisco a Goma in particolar modo e una volta guariti non possono uscire se non c'è qualcuno che provvede alle spese sanitarie. Qui stiamo parlando di famiglie poverissime, noi siamo riusciti a liberarne tantissimi, soprattutto bambini di età compresa fra un anno e sei anni ma comunque abbiamo agito anche per la liberazione tra virgolette anche degli adulti. La situazione è una situazione assolutamente disperata, mette in evidenza le disparità di questo mondo in cui pochi hanno tanto e tanti non hanno nulla e questa secondo me è una situazione assolutamente intollerabile. Assistere a condizioni di povertà così evidente mette in evidenza la responsabilità di tantissime persone che sono deputate alla responsabilità ad agire affinché si possano risolvere questi problemi invece tacciono e restano in silenzio rispetto a questo dramma che ormai è un dramma mondiale. Lei è riuscito a riportare in Italia questo grido di dolore di Muege che ha dato dei dati allucinanti, sfollati, morti, donne vittime di violenza, quindi in questo documento c'erano dei numeri veramente impressionanti. Ha riportato in Italia il documento, è riuscito grazie anche a Emilia Quilani, dobbiamo dirlo, ad avere un certo riscontro, a far conoscere questa situazione. Però lei ha detto che non intende fermarsi ovviamente qui perché c'è bisogno di un intervento molto più massiccio. Diciamo che i media abursesi sono stati i primi a raccogliere questa denuncia, questo grido di dolore da parte del premio Nobel, è ovvio che io non mi fermo, le possibilità sono due, o tacere rispetto a questa situazione o continuare in questa mia attività di sensibilizzazione. Io ovviamente opto per questa seconda possibilità, non mi fermerò, andrò avanti, cercherò di arrivare anche alla comunità europea per far sì che si conosca questo documento. Tra l'altro il contenuto di questo documento, tra i diversi contenuti del documento, il premio Nobel chiede, esige di visionare il rapporto mapping, che è un rapporto importante che mette in evidenza ciò che è avvenuto nella Repubblica Democratica del Congo negli ultimi anni. Qui stiamo parlando di tragedie, tragedie immane, violenze, torture, fosse comuni e tanto altro di questo genere. Parliamo un po' di lei e della sua attività, che io dicevo nell'introduzione all'attivo più di 20 anni di queste missioni, più di 50 missioni. Io le chiedo di raccontarci un po' come è nata questo impegno, lo definirei impegno, e soprattutto di raccontarci sinteticamente, perché 50 missioni sono tantissime, quelle che ha sentito di più. Dunque, il mio primo viaggio risale praticamente 21 anni fa in Ruanda e lì chiaramente mi è stato raccontato quanto è venuto nel 1994 a seguito del geniocidio, quindi della lotta tra le due etnie Utu e Tuzzi. Da allora ho continuato in questi viaggi umanitari per cercare di portare sollievo, per cercare di portare sostegno alle popolazioni che vivono in condizioni di estrema povertà. Ovviamente questo è possibile grazie all'aiuto, al sostegno di tantissimi volontari e di tantissimi sostenitori. Senza questo appoggio, senza questa vicinanza, tutto quanto è stato realizzato e quanto si realizzerà sicuramente non sarà possibile. E grazie alla sensibilità, alla generosità, all'impegno di tantissimi volontari e di tantissimi sostenitori che si sta realizzando questo importante intervento umanitario nei diversi paesi dell'Africa. Gli altri viaggi che ho fatto sono in Burundi, sono in Senegal e oltre a Ruanda e in Congo. Chiaramente noi gli interventi principali specifici che stiamo portando avanti nella città di Goma riguardano alcuni orfanotrofi, penso per esempio all'orfanotrofio Mamma Wawwote e all'orfanotrofio Flamdamur, oltre al centro che ospita ex bambini soldato e l'altra piaga importante, i bambini di strada. Ecco professore, un altro aspetto, lei faceva riferimento ai volontari, tante volte parliamo di questi ragazzi che lasciano anche le famiglie per seguire questa passione, questo impegno in altri territori. Per arrivare da voi, per far parte della vostra squadra, io nello specifico mi riferisco a Help Senza Confini, ci sono tantissime altre associazioni, altre Ollus. che cosa deve fare? Soprattutto ci sono tanti giovani che vi chiedono di potervi seguire? Ci sono tanti giovani che ci chiedono di seguirci, che chiedono di seguirci, tanti hanno già partecipato. Credo, non ricordo esattamente, ma almeno 40-50 volontari hanno partecipato nelle diverse missioni umanitarie, però tengo a precisare che partecipare a una missione umanitaria non è una cosa semplice, quindi serve innanzitutto la passione, la volontà di partecipare, bisogna fare i vaccini, quindi bisogna fare una serie di vaccinazioni affinché appunto si riduca fortemente il rischio di contrazioni di malattie. E poi c'è il tema legato alla sicurezza quando si arriva in questi posti, perché sono posti a rischio. Qui stiamo parlando di posti sicuramente pericolosi, dove la situazione interna è una situazione particolare, la sicurezza è una sicurezza molto limitata, pertanto fare partecipare a missioni umanitaria significa essere preparati sia fisicamente che psicologicamente. C'è una grande preparazione psicologica, perché a volte da qui non ci si rende conto poi delle situazioni che lì si vanno ad affrontare, professore? Non serve una particolare preparazione, serve una particolare dedizione, una passione per fare questa, partecipare a missioni umanitaria. Diciamo che a volte le missioni umanitarie diventano una moda per talone persone, alcune dicono, alcune persone dicono, ho sognato di partecipare a una missione umanitaria fin da piccolo, eccetera. Qui stiamo parlando di situazioni sicuramente pericolose, molto delicate, in cui bisogna essere certi di partire in totale sicurezza, perché i rischi sono alti. Partecipare a una missione umanitaria significa innanzitutto essere conci di questo, cioè dell'importanza dei valori della pace, del rispetto reciproco, della tolleranza, perché veramente oggi sta diventando difficile poter far passare questi valori, è sempre più difficile, perché come diceva Denis Muege, nessuna giustizia è negoziabile e io aggiungerei nessuna ingiustizia è giustificabile e nessuna prevaricazione è tollerabile. Se vogliamo veramente una pace, che sia una pace duratura e concreta, è necessario che vi sia una nuova rivisitazione dei concetti di mondializzazione e che finalmente le risorse e le ricchezze siano distribuite in maniera più equa. Ci sono troppe disuguaglianze, troppe poche persone hanno tutto e milioni di persone non hanno niente e soprattutto chi si deve occupare della vita di miliardi di persone deve fare meno proclami, deve rimpallarsi meno alle responsabilità e agire in maniera concreta a favore di queste popolazioni. Lei ha toccato un tema che mi spinge a parlare un po' della situazione che si vive in Italia, perché questi sono temi di attualità e c'è un dibattito lungi dal fare politica, perché non interessa a noi, non interessa a lei che invece è impegnato sul campo, però oggi anche l'accoglienza è un tema di cui si parla ogni giorno in Italia, che sta creando favorevoli, contrari, tante questioni a livello nazionale. Lei che cosa ne pensa? Io sono a favore dell'accoglienza, non potrei essere diversamente da ciò. Per me accollere una vita umana significa essere responsabili rispetto alla propria vita umana. Qui non stiamo parlando di pacchetti postali che si spostano da una parte a un'altra, qui stiamo parlando di vite umane, stiamo parlando di persone che sono vittime di soprusi, vittime di violenze, vittime di tragedie che sono difficili da comprendere se non si vivono da vicino. Bisogna avere una maggiore responsabilità rispetto a queste persone. Lei faceva riferimento anche a un orfanotrofio. Le adozioni sono difficili? Per quanto riguarda la nostra associazione, i nostri interventi, noi non abbiamo avviato appunto protocolli di affidamenti e di affidi a questi bambini. Noi riteniamo che agire sul posto con interventi concreti. Bisogna intervenire in maniera concreta. Intervenire in maniera concreta significa andare sul posto, chiedere cosa serve veramente di concreto e poi andare insieme a loro a comprare ciò che serve. Purtroppo i fondi partono. Ci sono i fondi che partono anche dalle diverse nazioni. Purtroppo dottoressa arrivano nelle persone sbagliate, si fermano nelle persone sbagliate, si fermano nei governanti di turno e non arrivano i poveri. Voi come riuscite a sostenervi, a portare questo aiuto? Perché la vostra è una Ollus, quindi non c'è assolutamente scopo di lucro. Questo occorre sempre precisarlo. Come riuscite a sostenere e poi ad acquistare ad esempio le cose che possono servire per queste popolazioni? L'ho detto prima. Noi ci sosteniamo con la generosità di tante persone, di tante persone generose. Sono privati che mettono a disposizione il loro impegno, la loro generosità, la loro bontà, conci dell'importanza del valore della solidarietà. Credo che un altro messaggio da dare è quello relativo alle scuole. Le scuole hanno una funzione importante, gli insegnanti, i docenti, i dirigenti scolastici, a sensibilizzare fin da piccoli i bambini, gli alunni ai concetti di rispetto dalle differenze, i valori della solidarietà, i valori della pace. Voi ormai siete in questi posti da tanto. Come vi accoglie la popolazione locale? All'inizio, io ricordo vent'anni fa, la popolazione era molto diffidente. Mi chiamavano Musungu, adesso mi chiamano Francesco, però ho dovuto fare, ho dovuto dare tante dimostrazioni di affetto e di solidarietà, perché non hanno, diciamo da un punto di vista generale, sono piuttosto diffidenti rispetto alle popolazioni che hanno colonizzato questi popoli per tantissimi anni. Io adesso mi sento fortunato di poter andare lì e essere accolto, anche se ammetto che rispetto alla prossima missione, ovviamente un minimo dottoressa, un minimo preoccupazione ce l'ho, no? Denunciare una cosa del genere significa in parte anche mettere a rischio la propria vita, però io continuerò in questa azione conscio che io stia facendo la cosa giusta. Lei è tornato da poco, prossima partenza? Prossima partenza dovrebbe essere per agosto, per agosto prossimo. Spero di poter partire, soprattutto spero di poter tornare, questo è l'auspicio, l'augurio. La destinazione è sempre questa, il Congo? La destinazione è il Congo, la destinazione è Goma, spero di tornare in Congo ad agosto, di continuare a portare le testimonianze a queste popolazioni e spero di rincontrare nuovamente anche il premio Nobel, Denis Mueghe, con cui ho contatti frequenti, anche grazie al nostro referente che si chiama Benvenu Casole, che è stato anche un esponente di Amnesty International. Quindi io sono assolutamente convinto, vorrei ripartire e farò il possibile affinché ciò accada. Lei parla anche ai giovani, insomma, per professione accademica, quindi può fare un lavoro veramente importante, visto che prima faceva riferimento alle scuole, perché nelle scuole poi ragazzi e bambini vengono formati, quindi è importante anche poter far questo. Noi al professor Barone facciamo un grandissimo in bocca al lupo per questa prossima missione, lo ringraziamo perché permette anche a noi, a noi locali che viviamo molto distanti da queste realtà, di poterle conoscere meglio, di capirle e anche di sensibilizzare, perché lei parlava della rete di solidarietà, è sempre importante riuscire ad allargarla sempre di più perché vivete di questo, soprattutto perché concretamente poi, grazie alla generosità, potete aiutare. Non so se vuole aggiungere qualcosa per salutare. Una parola rispetto ai giovani. Certo. Di solito si dice che i giovani sono il futuro, per me sono il presente. Il rischio è che i giovani del futuro diventano anziani quando diventano futuro. Quindi si devono occupare adesso. Adesso devono lottare per questi valori, far sentire la loro voce, battagliare, perché noi dobbiamo sperare in loro, dobbiamo sperare però oggi, nel presente, in questa loro attività. Dire sempre sono il futuro, sono il futuro, è il rischio che si parli sempre di futuro e non si parli mai di presente. Noi dobbiamo cercare invece di agire affinché subito si agisca per cercare di rivendicare fino in fondo la pace. Questo è un messaggio che io cerco di rappresentare, ma che comunque è anche il messaggio di una persona sicuramente più adorevole di me, che è Denis Mueghe, che è il premio Nobel per la pace 2018. Colgo l'occasione anche per ringraziare voi, dottoressa, per ringraziare l'amittente, che mi dà questa opportunità e ringrazio tutti i sostenitori dell'associazione. Quindi grazie a tutti. No, grazie a voi veramente, perché l'onore è nostro. Noi possiamo soltanto con microfono e telecamera dar voce alle persone come lei, che lo meritano. Lo merita soprattutto poi, al di là delle persone, il messaggio che lei ha lanciato. Grazie ancora al professor Francesco Barone, a tutti voi, alla prossima puntata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per la visione!